La musica è dentro di loro e è come assoppita. È stata scritta chiaramente da una natura artista e aspetta di essere svegliata dal liutaio che realizza il violino. E poi liberata dal musicista in modo che tutti ne possiamo godere. Quando entro qui, infatti, in questi boschi mi sembra di entrare in una cattedrale. Anche con il sole che penetra lateralmente è un mondo misterioso, un mondo magico. È il mondo delle fiabbe. Pensate, le più belle fiabbe, quelle che non hanno tempo, sono ambientate nel grande mondo degli alberi. La bella musica unisce sempre. Qualcuno ha detto la musica salverà il mondo. Io penso che forse è vero. la musica salverà il mondo. Grazie a tutti.